L'ho ucciso per difendermi, questa la versione che Luca Gentile, 22 anni, ha raccontato ai magistrati nell'interrogatorio di ieri. Il giovane ha confessato di aver ammazzato il padre della sua fidanzata, Eugenio Tura De Marco, con un coltello poi gettato nel fiume Irno. Sentito dal sostituto procuratore Elena Guarino davanti al giudice per le indagini preliminare, Piero Indinimeo, che ne ha convalidato l'arresto, il 22enne ha fornito ulteriori dettagli dopo quella maledetta sera di sabato in cui è stato trovato il corpo senza vita dell'uomo. Gentile ha detto che il suocero era completamente ubriaco e geloso del rapporto sentimentale che aveva con la figlia. Il sessantenne era invaghito di me, ma le sue avance si erano fatti insistenti e minacciose, ha detto ai magistrati. Secondo la ricostruzione dell'omicida, l'anziano sarebbe diventato addirittura geloso. La discussione sarebbe poi degenerata rapidamente. Gentile ha raccontato che il suocero lo avrebbe aggredito alle spalle, con una mano gli stringeva il collo e con l'altra provava a sbottonargli i jeans per approfittare di lui. Il giovane si è divincolato per poi accoltellarlo, questa la risposta data alle domande fatte dal sostituto procuratore. Circostanze che andranno ovviamente confermate in sede giudiziaria, anche se restano da chiarire alcuni aspetti. Ad esempio, perché Gentile venerdì sera, il giorno dell'omicidio, si trovava in quella casa a Rione Fornelle di Salerno. Grazie a tutti.